La Sicilia in questo momento è bloccata dal movimento dei Forconi, autotrasportatori, pescatori, operatori produttivi del tessuto siciliano che non riescono più ad andare avanti. Una protesta che molti vogliono ignorare, io credo che sia fondamentale, la protesta è pacifica ma le esigenze sono sacrosante. La nostra classe produttiva, gli agricoltori in particolare hanno visto in quest'ultimo anno aumentare del 153% il costo del gasolio in agricoltura. Lo stesso vale per l'autotrasporto, è chiaro che essendo la nostra isola collegata esclusivamente via gomma con l'Italia e con l'Europa, è chiaro che un aumento di questo tipo comporta un blocco totale dell'economia in Sicilia. Questa protesta deve conciliarsi purtroppo con i disagi per i cittadini ma è chiaro che se nessuno prende in considerazione alla giusta protesta, se il governo non ha attenzione a tutto questo, fino a questa mattina ho incontrato il ministro dell'agricoltura per sottoporvi alla necessità di un intervento in questa direzione, è chiaro che la protesta sacrosanta è destinata a continuare. Non c'è niente da fare, se tiri troppo la corda, se alla fine porti coloro i quali devono spingere in avanti l'economia, i cittadini, le persone normali, aggravarli di tasse, di imposte, di balzelli, aumenti l'IVA, aumenti le tasse, aumenti la benzina, è chiaro che alla fine non ce la fanno più e quando non ce la fanno più è legittimo che protestino, quindi evitiamo che qualcuno voglia cavalcare una protesta che invece è il contrario, una protesta libera e una protesta pacifica di coloro i quali rivendicano il diritto, il diritto di essere uguale agli altri, un'Italia che non può andare a due velocità, un'Italia che deve crescere tutta insieme e quindi condividiamo per questo e siamo vicini agli agricoltori, agli trasportatori a chi onestamente cerca di difendere il proprio lavoro.